in una stazione, quella di Vigna Clara, costruita per i mondiali del 1990 e sostanzialmente mai entrata in funzione, forse con pochi giorni di eccezione. Qualcosa però ora si muove, forse non è un treno, ma qualcosa si muove. Vediamo in diretta con Rossola Santilli, buongiorno. Buongiorno Rosario, buongiorno ai nostri telespettatori. Qualcosa si muove, per ora no, purtroppo il binario, come vedete, è deserto, siamo nella stazione di Vigna Clara, qui su Corso Francia. Cos'è che si muove? Si muove il fatto che il 21 ottobre scorso è stata pubblicata l'ultima sentenza del Tardellazzo, in cui si dà ragione a RFI e gli si dà via libera alle prove tecniche senza l'obbligo della presenza dei ricorrenti. Perché ricordiamolo, questa lunga storia della stazione di Vigna Clara è costellata di corsi, ricorsi, corsi, ricorsi, sentenze e via discorrendo. Adesso siamo quasi, quasi alla prova finale. Intanto però, qui le prove che non state annunciate per i primi di novembre non sono state ancora effettuate. E naturalmente il quartiere è in fibrillazione, i comitati sono abbastanza sempre surriscaldati. Allora, cominciamo subito con Cristina Tabarrini, un anello per Roma. Avete fatto anche le magliette ormai. La sentite proprio vostra questa stazione? La ferrovia, quanto vi serve? Tantissimo, perché sarebbe per noi la risoluzione di un grande problema di immobilità di questo quadrante. perché abbiamo costantemente traffico ad altissimo livello, soprattutto a livello di Corso Francia. E poi sarebbe un vantaggio ecologico ed economico per noi. Ecologico perché migliorerebbe la vita di tutti quanti noi, abbattendo anche le polveri sottili. Quindi avremmo una qualità di vita migliore. Cioè lei andrebbe a lavoro con questo treno? Assolutamente sì, perché in otto minuti sono sicuramente a Valle Aurelie. Da lì ho i collegamenti con la metro A e quindi potrei assolutamente vivere una vita migliore. Vendendo l'auto? Vendendo l'auto, quindi un grande risparmio economico. Grazie, Architetto Angelini, altro comitato, quartiere, stazione, vigna, clara e dintorni. Voi avete fatto addirittura una richiesta di accesso agli atti. Perché? Perché cosa volete scoprire? Dato che la problematica sembra essere quella delle vibrazioni, noi volevamo appurare se i ricorrenti che possono lamentare vibrazioni hanno diritto a questo ricorso. Poiché anzitutto la galleria è antecedente alla costruzione dei fabbricati in oggetto perché addirittura risale al ventennio fascista. E secondo per il fatto che bisogna appurare se questi fabbricati hanno diritto a livello di urbanistico a inoltrare questi ricorsi per la liceità delle loro concessioni edilizie e la loro la normativa rispettata in questo senso. Però a tutt'oggi non avete ancora potuto accedere agli atti? Purtroppo la burocrazia è un pochino tiranna in quanto alcuni progetti sono depositati addirittura a Pomezia per cui in dipartimento bisogna effettuare delle richieste. Insomma il solito iter. Adesso tutto procede tranne che il treno. Claudio Caffasso, direttore di Vigna Clara Blog, un giornale online che da sempre segue questa stazione, questa linea ferroviaria. Il treno non sappiamo ancora quando partirà, però gli utenti avranno un problema di parcheggio in sintesi. Sì, gli utenti avranno un problema di parcheggio. Io credo che sia giunto il momento di mettere mano a questo problema. se vogliamo che questa stazione, questa linea parta al meglio. Per cui è ora che municipio, comune, RFI cominciano a sciogliere i nodi. Piazza Diodati, il mercato resterà o no? Se il mercato va via sarà un parcheggio di scambio. Potrebbe diventarlo. Se il mercato non va via bisogna capire dove gli utenti dovranno lasciare le macchine. Inoltre questa stazione va integrata anche nel circuito urbano dei trasporti. In questo momento qui davanti passano solo due linee. bus che non sono molto frequentate. Forse una navetta che congiunga la stazione in Clara con Piazza Mancini, andate e ritorno continuamente con mini bus elettrici, potrebbe favorire l'utilizzo di questa stazione. Grazie direttore Claudio Caffasso. Allora, tante domande sono già emerse in pochi secondi. Gireremo queste domande al rappresentante di RFI nel prossimo collegamento. La linea torna a te. Grazie, Rossello. La linea clara. Quell'altra stazione di Roma dove il tempo non passa e, a quanto ho capito, neanche i treni. Vero, Rossella Santilli? Che novità ci sono? Perché adesso hai la controparte dei cittadini. Sì, Rosario. Intanto partirei dal fatto che qui intorno alla stazione ci sono tanti alberi e anche questi vanno tutelati proprio perché oggi è la giornata dell'albero. Però porterei la vostra attenzione su questo lucchetto. Questo la dice lunga. Non è per adesso la partenza del treno sulla linea ferroviaria Roma Nord-Vigna Clara verso Montemario. Però nel frattempo i residenti non stanno fermi ad aspettare. Daniele Ottazzi, altro comitato di quartiere, Associazione Fleming-Vigna Clara per la mobilità. Voi pensate ancora più in grande oltre la stazione di Vigna Clara? Decisamente. La stazione di Vigna Clara è un primo step perché chiaramente questa sarà la base di partenza anche per poter riprogettare e riprendere il progetto dell'anello ferroviario che chiuderà finalmente la circolazione ferroviaria tutta attorno a Roma. Il grande sogno dei romani è chiudere l'anello ferroviario. Però intanto facciamo partire questo treno. Allora Ingegner Torassa, direttore responsabile dell'area centro di RFI. Allora, prima domanda. Quando le prime prove su questo binario? Beh, le corse prova che erano state pianificate riprenderanno nel mese di gennaio. Già oggi abbiamo ripreso tutte le attività di ripristino della tratta lungo la linea e poi ci avviciniamo verso Vigna Clara. Quindi il primo treno lo vedremo camminare quando? A gennaio? Le corse prova, sì. Le corse prova finalizzate a effettuare i test vibrazionali, quelli che il TAR in un qualche modo ci aveva richiesto nella prima sentenza e i test vibrazionali per misurare quello che è l'effetto sugli edifici circostanti. Quindi, seconda domanda, arriveranno i treni per fare queste prove? Da dove arrivano e chi li ha impegnati? Siamo entrati in contatto con l'impresa ferroviaria. Ci metterà a disposizione un treno TAF, che è un treno del trasporto regionale. Questo treno TAF verrà utilizzato per fare le corse prova nel mese di gennaio. La durata è di circa una decina di giorni. Altra domanda, che stanno rimbalzando anche sui social, perché appunto questa stazione è molto amata e desiderata. Come verrà risolto il problema del parcheggio di scambio qui alla stazione? Beh, sono in corso contatti, in contatti con le persone che... E qui dietro c'è un mercato. Certo, sono, dicevo, in corso contatti con il mercato, con il comune, con il municipio. E' ovvio che dobbiamo cercare di comprendere qual è il reale dimensionamento del parcheggio che sarà a servizio della nuova stazione e poi il dialogo con il municipio e il comune ci permetterà di trovare una soluzione. Quindi al momento non c'è. Domanda finale, quando prenderemo il treno qui a Vignaclara? Ma noi contiamo, come rete ferroviaria italiana, di terminare le nostre attività entro il mese di aprile. Poi il... Il primo treno, ingegnere? Entro 2020. Allora, appuntamento, buongiorno Regione, prendete nota, entro il 2020 scenderemo qua giù e prenderemo con voi il treno. La linea torna a te, Rosario. Grazie, Rosario.